Gentili telespettatori, buona giornata. Crollo del Movimento 5 Stelle o il Movimento 5 Stelle è sparito definitivamente dalla circolazione? Beh, intanto salutiamo l'Appendino e la Raggi che terminano la loro esperienza. Il vento del cambiamento è finito a Roma, il cambiamento ovviamente in peggio. Per fortuna per i Romani. Nonostante lei dice che non è finita qui, forse c'è una seconda parte, un po' come Rambo 1, Rambo 2, Rocchi 1, Rocchi 2, magari chissà lei pensa a Raggi 1, Raggi 2, la vendetta, chi lo sa. Crollo del Movimento 5 Stelle o è sparito il Movimento 5 Stelle? Allora, partiamo da Roma. Nel 2016 avevano il 35,3%. Poi nel 2019 a Roma avevano il 17,6%. Nel 2021 scendono all'11,7%. Quindi 35,17,11%. Una discesa del 75%. A Milano avevano il 10,4% nel 2016. 8,5% nel 2019 e ben 2,9% nel 2021. Pertanto qui c'è una discesa, una discesa anche qui, del 70%. Meno 70% degli elettori a Milano, meno 75% di elettori a Roma. Andiamo a Torino, ne? Andiamo a Torino. Nel 2016 30%. Nel 2019 13,3%. Nel 2021 8,5%. Qui abbiamo un calo, un calo dal 30 all'8,5%. Fatemelo fare con la calcolatrice. Quindi 30 diviso 8,5%. Facciamo così. 8,5 diviso 30%. Abbiamo un calo del 71,6%. Quindi un calo incredibile. Siamo alla terza città e vediamo cali oltre il 70%. Cioè l'elettorato perso sono 7 su 10. Adesso passiamo a Bologna. A Bologna nel 2016 c'erano il 16,6%. Poi nel 2019 4,2%. Nel 2021 3,4%. Se noi facciamo 3,4 diviso 16,6%. Andiamo di nuovo qua e facciamo 3,4 diviso 16,6% meno 1. Abbiamo 79,51%. Impressionante. A Bologna perdono praticamente l'80%. 8 elettori ogni 10. 8 elettori ogni 10. Ma arriva un miracolo. A Napoli. A Napoli nel 2016 avevano il 9,6%. Nel 2019 hanno il 14,6%. No, non è un miracolo. Nel 2021 scendono all'11%. Diciamo che sono quasi spariti, no? Per dare un po' di fiducia ai grillini rimasti. A quei tifosi che vedo commentare sul canale. Non è vero, non è vero. Cosa dici? Cosa dico? Questi sono i dati. Fatevene una ragione. Il Movimento 5 Stelle, quello di grillo sul canotto dei Vaffa, non esiste più. Il Movimento 5 Stelle, partito rivoluzionario che doveva combattere la casta identificata nel PD e Renzi, adesso sono diventati indissolubili. Cioè il Movimento che nasce per combattere il PD, la casta, sono adesso alleati per sempre col PD. Pensate un po'. Pensate un po'. Naturalmente quando dico che gli elettori attuali del Movimento 5 Stelle coincidono a quelli che hanno il reddito di cittadinanza, cosa dici? E cosa dico? Non vi piace sentire la verità, eh? Il Movimento 5 Stelle aveva 9 milioni di elettori. 9 milioni di elettori. E ma quanti ne ha? E perché? Perché? Non lo siete mai chiesti? Il perché? Beh, adesso di elettori ne ha 4 milioni. Da 9 a 4, più o meno. Quanti sono i fruitori del reddito? 3 milioni e 100. Più i familiari che gli girano intorno, la mamma, il papà, il fidanzato, la fidanzata. Avete visto che gli elettori, che caso strano, sono proprio uguali a quelli che hanno il reddito. Ma dai? Ma che coincidenza! Eh, che spiterina! Ma soprattutto vi siete mai chiesti perché il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha 15, 16, 18,5? E poi a Roma c'ha l'11,7? A Milano il 2,9? A Torino l'8,5? A Bologna il 3,4? E a Napoli all'11%? Adesso vedremo di rispondere a questa domanda. Perché a livello nazionale a livello nazionale ci sono c'è il 18,5% e a livello locale come abbiamo visto nei regionali ci sono queste cifre. Allora, facciamo una una è che scusate ma sto facendo tutto con una sola allora abbiamo allora me lo scrivo qui perché non riesco a fare tutto insieme facciamo una media scema perché non è che si può fare una media così perché le città hanno delle popolazioni diverse ma facciamo una media cretina così una media cretina sulle grandi città abbiamo l'11,7 più il 2,9 più l'8,5 più 3,4 più 11% lo andiamo a dividere per queste 5 grandi città e vediamo che di media è una media scema perché ogni città ha la sua dimensione bisogna fare un altro calcolo più complicato ma noi facciamo una media la media cretina la media cretina dice che nelle 5 grandi città più o meno c'è un 7,5 di media 7,5 più o meno come alle regionali e perché a livello nazionale il 18,5%? muovo o spiego muovo o dico a livello nazionale tutti dicono quelli con il reddito noi votiamo per il Movimento 5 Stelle il nostro datore di lavoro è un voto di scambio pertanto noi gli diamo il voto e loro speriamo che governino perché se no ci tolgono lo stipendio poi a livello locale vanno a votare realmente chi gli interessa realmente chi gli interessa quindi voi vedete che il vero Movimento 5 Stelle è al 7,5% gli altri sono voti di scambio 7,5% l'altro 10-11,5% è gente che dice che vota il Movimento 5 Stelle alle politiche per assicurarsi il sussidio ma alle elezioni locali vota per altri perché lì non è a rischio il reddito arrivederci a tutti e grazie grazie